Sono Paola Bongio, Milena Rivolta, noi apparteniamo alla cooperativa sociale La Fucina. Siamo una cooperativa sociale, abbiamo sede allo spazio MAS di Ro. Ci occupiamo di sviluppo di comunità, che vuol dire fare in modo che la comunità nella quale sviluppiamo un progetto sia sempre più consapevole, attiva, bella, stia bene e gli attori che la abitano siano protagonisti del loro tempo e del loro spazio. Per protagonisti e per attori intendiamo tutti. Far parte della rete del Faradiversamente è sicuramente un arricchimento, ci permette di conoscere le altre associazioni che sul territorio e gli altri enti che sul territorio lavorano e offrono servizi. Per cui questo è molto importante. Entrare a far parte della rete è come dare il proprio contributo al creare una comunità che lavora insieme, che collabora e che costruisce nuove progettualità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.